Questa mattina, dopo l'esito di due casi positivi al tampone per il nuovo coronavirus accertati nella città di Fano, convocato nuovamente dal sindaco Seri Ilcoc nella sala della Concordia della Residenza Comunale. Alle 8.30, un po' alla spicciolata, oltre al primo cittadino, si sono seduti al tavolo tutti i soggetti preposti a presiedere la riunione, polizia locale, dirigenti, assessori, croce rossa e protezione civile, oltre al capo di gabinetto, Pietro Celani. Due gli aspetti presi in esame, un'analisi approfondita dell'ordinanza emanata dal governatore Ceriscioli e la configurazione di ogni possibile scenario futuro, in base all'evoluzione e alla propagazione del virus tra la popolazione fanese. Sì, intanto vorrei precisare un aspetto che non è banale. Qualcuno può allarmarsi vedendo queste convocazioni dei COC come una crescita dell'emergenza. In realtà questa è un'attenzione, è una garanzia per i cittadini perché si fa in modo preventivo. Però in questo momento non siamo in una situazione di quel genere perché ci sono stati questi due casi isolati e adesso le trattate sanitarie stanno facendo tutto il loro lavoro. Se dovessero esserci sviluppi diversi è chiaro che noi siamo pronti anche in quella evidenza. Però in questo momento non dobbiamo allarmarci più di quello che è. Chiaro, non abbassiamo la guardia, però ecco, è tutto sotto controllo. Però ecco, abbiamo anche sanificato, quindi c'è un'attenzione. Cerchiamo magari anche di eccesso di zelo, però preferiamo magari fare un passaggio in più rispetto ad uno in meno per una maggior tranquillità. È stato accertato in queste ore che la fonte di contagio dei due anziani e i risultati positivi anche al secondo controllo certamente sono da fonte esterna. Ora quindi si è aperto per loro il protocollo sanitario che si applica in queste circostanze ed anche coloro con cui sono venuti in contatto negli ultimi 14 giorni sono sotto osservazione delle autorità sanitarie. Il COC serve anche per coordinare la macchina del volontariato di importanza vitale in questi casi per l'imprescindibile apporto umano che mette in campo. Quale sarebbe nel caso la vostra operatività? Cioè, quale sarebbe il primo intervento che sareste chiamati a fare? Sicuramente il montaggio delle tende, se servono, oppure qualche pasto, oppure nel portarli. Come abbiamo fatto nell'emergenza terremoto, andavamo a casa di, e naturalmente qui ci saranno dei limiti dove possiamo arrivare o meno e questo è il nostro compito, in supporto, in aiuto nei numeri e nella quantità. Allora, gli operatori della Croce Rossa come stanno prendendo? Immagino con abnegazione e senso del dovere i suoi colleghi. Tranquilli, non mantengono quelle che sono le norme usuali di igiene, nessun allarmismo, niente di particolare. La stessa cosa diciamo anche agli altri, non c'è bisogno di allarmarsi. Tranquilli, lavaggio delle mani, senza tanto uso di cloro, acqua e varichina.